Il bilancio di previsione del Comune di Chieti si appresta ad essere approvato in Consiglio Comunale. La data limite è quella del 30 giugno. Il sindaco Diego Ferrara si dice fiducioso per quanto riguarda il rispetto delle scadenze, anche se ci sono state delle difficoltà soprattutto legate alla questione teatro e servizi. Criticità dettate dal reperire i dati analitici inerenti gli ultimi bilanci 2020 e 2021. Una volta che la Sise voterà il bilancio via ai lavori in città, tra le priorità il rifacimento di alcune vie sia dello scalo che della città alta, oltre agli sfalci delle erbacce. Mentre il sogno è quello di vedere pronta Piazza San Giustino dopo la metà di agosto. Sarà il punto di partenza di tutte quelle opere che la mia amministrazione si è prefissa di portare avanti per l'ammodernamento della nostra città. È stato un lavoro finora molto laborioso soprattutto nelle ultime fasi dove sono mancati quei dati diciamo o sono stati particolarmente difficoltosi averli, quei dati da teatro e servizi che come i cittadini sanno, è in mano ad un liquidatore per il momento in attesa di un eventuale processo di recupero della società. Dati che avevo tra l'altro pressantemente richiesto all'amministratore precedente e che per ben un anno e mezzo dal mio insediamento non sono riuscito ad avere. Adesso li stiamo ricostruendo e quindi stiamo diramando e stiamo finendo di fare il bilancio.